Lunedì 31 ottobre verrà chiusa la residenza sanitaria di Bibio Bellocchio Giulianova per la gestione dei servizi assistenziali in favore dei pazienti covid, positivi e ancora sintomatici in dimissione protetta. Una struttura che nel periodo clou della prima ondata è stata molto utile per alleggerire la pressione sugli ospedali. Una decisione quella della chiusura presa dal direttore generale dell'azienda sanitaria Terramana Maurizio Iggiosia. Tenere in piedi la RSA di Bellocchio era non solo poco funzionale ma anche impossibile dal punto di vista economico. Una decisione che porta ad un risvolto però negativo e cioè quello occupazionale visto che ad oggi ci sono 35 persone impiegate in questa importante struttura. Infermeri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, centralinisti, personale ausiliario che insieme all'RSA di Bibio Bellocchio perderanno, chiuderanno il loro rapporto di lavoro con le cooperative sociali che avevano affidato questo servizio. Qual è il ramarico per questa vicenda? Quella struttura è stata al centro dell'interesse della collettività in più riprese nel corso degli anni. Era il 2015 quando è stata affidata quella struttura quale residenza per anziani. Poi nel 2018 quando si è annunciata che Bibio Bellocchio doveva essere una residenza per i malati di Alzheimer. Per questo motivo la FPCGLI Teramo chiede che la struttura giuliese venga da subito riconvertita a residenza sanitaria per anziani come doveva già essere e affidata alle stesse cooperative in modo da non perdere il personale qualificato ad oggi presente. Il ramarico è che ad oggi nessuno ha pensato di dare continuità alla vita di quella struttura e per la sanità del nostro territorio e insieme alla continuità assistenziale della vita di quella struttura la continuità occupazionale di chi nei mesi tremendi del Covid ha prestato il proprio lavoro, la propria messa a disposizione, la propria professionalità per fronteggiare l'epidemia da Covid-19.